imb l'oggiato sabotatore estérum inizialo meone un bucci nomi al valigian mimia oddio uak di merci di furtivo the figo la bei chopper tipolo oltre ho fatto esplodere tutto si si fai tutto ma si può prendere la barca cosa non c'è un casino non ci può prendere che può cosa si può prendere la barca alla testa ad accio fai se qualche altra missioni più avanti si potrebbe fare m perché sarebbe veramente figo io ho giocato pochissime volte falcani la cosa fighissima è quella di prendere i come si chiama i veicoli mamma mia sto facendo una strage di colpe alla testa perché non ho capito bene perché mi cambia arma però va bene il cambio dell'arma è fatto dai tasti un due tre robe del genere quindi non penso sia alla rotellina eh si infatti la rotellina oh ma oddio ma è uscito da mai dalla pistola u assisto uccisione siamo pro che coppa ragazzi a tante che uccida dove dove dai oddio mi sparano per me era la mano anche va per morire sto per morire no 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 ok ok para si ecco dai no che parla e mi stavo drogando oddio oddio ok primo fail in squadra vai ok vai io sono pronto vai purio ok fra tre secondo tre due uno ok iniziamo di nuovo benissimo sasta la persona con un'arma migliore ma io ho continuato a registrare pure tu si si andiamo andiamo due vittime si esplode tutto allora adesso voglio rifare gli headshot di prima quindi impegniamoci cerca di non andare troppo avanti facciamoli fuori da qua se riesci e poi andiamo avanti magari con più sicurezza che non ci sta nessuno ok ma perchè io c'ho i puntini alle mani su cui c'è c'è tipo delle voglie e che ne so fatti troppo vodas eh le voglie dei marocchini sono si è probabile il fap dei marocchi ok basta perchè non crepi ok adesso mi incazzo ok allora guarda lì tanto che sparano tanto ci sono le zone con vicino si è vero comunque dove qua qua proprio dietro ai dati e penso siano infinite si spero oh headshot vai perfetto gli headshot sono fatali vabbè ovvio eh beh so headshot roll no non è vero mica se uno lo spari in testa muore scusa nooo proviamoci ok allora oh guarda un altro headshot fantastico questo episodio lo chiamo headshot beach vai se si è probabile perchè non muore ok 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 un'altra foto un'altra munizione mi sa che ti ho salvato la vita ok ci facciamo c'è un po' di munizioni no dovrà prendere la capa mi sa perchè potrebbe essere un'ottima idea guarda prova a depredare i cadaveri che ci sono qua di solito qui ci sono misazioni comunque ah infatti pure lì c'è il carico eh io vorrei lanciare una granata lì vai lancia lancia ok lancia 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 in merda lol che cosa ha detto ahahahah fantastico che ball è un figato spara spara aiuto aiuto ci sarò io oh ho fatto stata in area qualcosa giusto perchè dovevo mi piace allora ammazziamo sto tizio che è morto oh potenziamento all'arma oh good assist uccisione ma sta comando bene ora si si good good wow dice cristo eh non devi parlare se non ci ammazzo eh dobbiamo registrare qualcosa in teoria oh ho ammazzato un tizio in un modo troppo pro guarda quanto sei carino sposiamoci c'erano delle munizioni in teoria dietro guarda che è meglio tornare guarda qua dietro ci prendiamo le munizioni e ritorniamo io faccio così almeno ok sta tanto sta tanto tattico tattico esplosivi e munizioni sei inutile tattico davanti però io ti voglio bene ti coprirò pure dalle bombe oh lanciarazzi oddio lanciarazzi proprio su ulisse così è lanciarazzi ok arrivo col mio piccolo amichetto chiamato ehm piccolo lanciarazzi fatto maestro ok bene allora oddio o mi sa che non l'ho beccato manca una volta ma va bene io ho buttato una granata appresso a quelli il ok ma non moto altrimenti assisto e ti voglio bene ai lo moto ok quel tizio deve morire marra un po difficile beccati che una una granata la in mezzo chi ha migliorato la velocità se sia stato urlo bene oddio urlatore perfetto o altro kill vai vai unizioni scherseggiano tipo russo il tizio mio fantastico oh nicolai non muore mai mi sa che abbiamo scombrato tutto sono visi però io direi di ricaricali ci sono ok perfetto si si qui ci sono le ricariche io inizio a sparare un po' di questa gente ma perchè c'è altra gente oh potenziamento k benissimo la possiamo puntata quindi aggiorneremo tutto si si aspetta fammi prendere pure gli esplosivi va ok perfetto volevateci un bel hg o hg o hg come volete oddio dove sono farò dei cadaveri in aria c'è un tizio impiccato quello la sarà ulisse fra un po' oddio guardalo guardalo o ho un po' di parenti figana e fila a macchia giusto cd si va oddio santo mi sta facendo malissimo ok ulisse ha interruzioni in casa ma non preoccupate allora vediamo di lanciarci una granata alla ok boom oh scappa scappa ebete oddio spara oddio sono praticamente senza cure ok perfetto ok perfetto vediamo di sorpassare i cadaveri c ci mimetizziamo oddio 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 santo oddio 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 odd si è riuscito a vivere allora guardiamo vediamo di rianimarlo in fretta ah ma sei morto proprio completamente che palle vediamo se riesco adesso ok riacomi sei morto proprio completamente benissimo si si riacome ragazzi scusatelo allora vediamo devo vedere se sopravvivo io cristo ok a poi non posso che ci stavano allora vediamo di ammazzare sti tizi però tatticamente quindi ci ricarichiamo un attimo la vita facciamo questo perchè lo volevo fare ok ok ammazziamo quello arriva il bombardone headshot successo vai da soli senza ulisse ce l'abbiamo sarà un po' difficile direi cosa eh sono tipo un po' bloccato mi sa che mi può curare eh mi sa che devo andare lì all'obiettivo eh si forse riesco a risponare probabilmente devo sbloccare quel tizio il money grab e per aprire dan dan ok sono tornato perfetto vediamo quanto abbiamo registrato che ti dico subito mancano 8 minuti e 40 secondi bisogna che può passare anche così ah ok perfetto perfetto allora ragazzi finiamo questa scena e ci salutiamo non la temo 50 50 intanto bevo un po' d'acqua perfetto quindi ragazzi da shadow e ulisse penso possa essere tutto e quindi ragazzi ci becchiamo al prossimo episodio ciao ciao ciao